Ciao ragazze, finalmente faccio un video, però non è un video all review o tutorial, ovvero quello che faccio di solito, ma è un video passeggero per informarvi un po' su le ultime cose che sto facendo. Lo faccio più che altro per chi non mi segue su Facebook, per chi non ha la possibilità di seguirmi lì, perché vuoi che non ce l'ha, vuoi che non gli piace, insomma vuoi per una serie di cose, anche per le ragazze che mi scrivono messaggi privati qui su Youtube, quindi ho deciso di fare questo video molto 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 veloce, perché vado di fretta, tanto per cambiare, e quindi informare un po' tutta. Allora, questo video nasce per informarvi che dal 9 al 12 marzo sono a Bologna, non solo per andare al Cosmoprof, finalmente vado anch'io a questo benedetto Cosmoprof, ma sto partendo insieme al mio ragazzo perché abbiamo delle commissioni su Bologna da fare, e quindi giacché che il periodo è dal 9 al 12, delle cose che dobbiamo fare, abbiamo deciso di andare anche al Cosmoprof. Allora, io il giorno che andrò al Cosmoprof sarà l'11 marzo, ovvero domenica, quindi sarò dalla mattina appena apre il Cosmoprof fino alla sera finché chiude, cioè in modo da poter starci più il più tempo possibile per girare tutti gli stand, anche se già so in partenza che non riuscirò mai a vederli tutti, perché già la fiera a Napoli, ed era molto molto più piccola della fiera di Bologna, non sono riuscita a vederli tutti, quindi figuriamoci a Bologna che sarà il triplo o forse anche il quadruplo della fiera di Napoli, quindi già sono consapevole. Se vi va di incontrarci oppure se mi vedete e vi va di salutarvi a me farebbe molto molto piacere perché io vi dico già in partenza che io non riesco a riconoscere nessuno dal vivo, non so perché, sono proprio poche quelle persone che riesco a decifrare personalmente, quindi se magari mi fate un cenno voi mi fate un grande favore, è ovviamente anche un grande piacere perché finalmente posso parlare a tu per tu con voi dal vivo a quattro occhi, senza sempre questa via telecomunicativa. Allora, quindi questa è la prima notizia, la seconda notizia che sono stra 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 felicissima è che domenica 4 marzo inizierò il primo corso di trucco in vita mia, quindi sono contentissima perché mi sono iscritta questi tre corsi che saranno uno di, quindi tre giorni di, come si chiama, di trucco correttivo, quindi la base, poi altri tre giorni di trucco sposa e altri tre giorni di trucco glamour, moda, fashion, insomma un po' di queste cose così carine carine come piacciono a noi. Niente, queste erano le due notizie, se anche voi state venendo al Cosmoprof, fatemelo sapere con un commentino qui sotto o anche sulla mia pagina Facebook o un messaggio privato, dove volete, perché veramente ragazzi mi farebbe piacerissimo incontrarvi. Nulla, io ho fatto un po' di nuovi acquisti, ho tanti prodotti da farvi vedere, da recensirvi, ho in mente tante cose nuove, spero di poterle fare quanto prima, tempo permettendo, perché comunque questi periodi sono un po' critici. Oltre il fatto che la scuola e il lavoro mi portano via tanto tempo, anzi la scuola un po' meno quest'anno, però lo studio c'è sempre, anche perché andiamo nei centri estetici, facciamo gli stage, quindi è un vero macello. Già sapete tutta la mia situazione, quindi non sto a ripetervi sempre, sempre, sempre le stesse cose. Sarebbe anche inutile e scocciante. Quindi, che dirvi ragazze? Mi sto andando di chiudere il video, perché è veramente da tantissimo tempo che non ne faccio uno. Ho perso quasi 7 kg con la dieta, giusto per tenervi aggiornate. Ecco, puntualmente il mio telefonino che suona. Quindi, ragazze, queste sono le ultime info che vi do. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto, spero, in un prossimo video. Ciao!